Ciao! Episodio numero 4 del podcast Il Cambiamento. Changers, come state? Changers. Changers. Allora, abbiamo ricevuto feedback contrastanti su cambiatori, changers, eccetera. Cambiatori ci hanno segnalato che significa i cambiatori di valuta. Quindi non piaceva, ad alcuni piaceva, e alla fine abbiamo pensato che il mantra è Be the change e voi siete dei changers. Nice. Quindi, ciao changers. Ciao changers. Oggi parleremo di stereotipici. Stereotipi. Stereotipi. Parità dei sessi. L'uomo, la donna, papà, la mamma, e questa nuova cosa... Lavoratore e lavoratrice. Yes, e anche questa nuova cosa che ho imparato che si chiama il mammo. Il mammo, esatto. I've never heard of that before. Ma prima di entrare nel vivo dell'episodio di oggi, che Alice lo dice sempre così, prima di entrare nel vivo dell'episodio di oggi, lo voglio dire con la stessa energia, quello dice Alice, vogliamo fare un momento di gratitudine. Quindi, se state ascoltando su YouTube o su Spotify o iTunes, lasciateci un commento. Beh, lo puoi solo lasciare su YouTube, ma comunque se state ascoltando su iTunes o Spotify, taggaccici su Instagram, chiocciola Michael Carboneotto, chiocciola Alice's Lifestyle, con un pensiero di gratitudine, perché oggi siamo molto, ma molto, ma molto grati per qualcosa. Alice, tell them what we're grateful for. Allora, oggi noi siamo estremamente grati per essere in grado di poter registrare questo podcast e per chi non ci segue su Instagram, per chi ci segue forse lo sapete già, ma per chi non ci segue su Instagram, in questi, cioè qualche giorno fa, domenica sera in particolare, sono venuti i ladri in ufficio, anzi sono entrati proprio dalla finestra qui, che abbiamo qui di fianco a me. Quella che è coperta da Alice, se guardate la telecamera stretta, se siete su YouTube, coperta di quella, come si chiama, un window blind? Una tenda, una tenda. Quindi coperta la tenda c'è una finestra che è tuttora rotta, però adesso c'è l'allarme. Esatto, importante, public service announcement, adesso c'è l'allarme per qualsiasi persona che sa dove è il nostro studio. Che si avvicini nel nostro studio. Domenica sera siamo stati avvisati dalla persona che abita sopra di noi, che ci ha telefonato e ci ha detto, ma ragazzi siete voi giù perché io sento un po' di rumore e sapendo che qua per noi l'ufficio di domenica sera sembrava strano, infatti noi eravamo a casa, erano le sette e mezza, orario di aperitivo di domenica, stranissimo, e noi abbiamo detto no no, siamo a casa e lei ci ha detto, secondo me c'è qualcuno in casa, anzi sento tutti i cassetti, sento casino. Abbiamo detto ok, chiuditi dentro, chiamiamo la polizia, chiamiamo i carabinieri, sono arrivati tempestivamente e nel frattempo il nipote e la persona che abita sopra è venuto qui, ha suonato il nostro campanello, quindi le persone sono andate via, perché comunque c'era una persona sopra, quindi va bene i carabinieri che li potessero prendere, però volevamo evitare ovviamente il danno, il peggio alla persona, perché finché sono cose va bene, ma le persone no, quindi abbiamo detto va bene, quindi è venuto il nipote, ha suonato, sono scappati, siamo arrivati qui, avete presente il cuore in gola, nel momento in cui tu dici c'è qualcuno in ufficio, ho tutta l'attrezzatura, tutto, ho le videocamere, i microfoni, i computer, il laptop, il database, gli hard drive, i watch, tutto il tecnologico possibile e immaginabile era qui, quindi quel momento in cui tu, io sono rimasta a casa con i bambini, perché è successo in un momento dove Alice stava giocando con Sebastian, io stavo dando il latte con la bottiglia a Juliet e quando ci siamo resi conto di questo, quando abbiamo avuto la telefonata, io ho passato Juliet a Alice, abbiamo preso la decisione insieme che io sarei stato quello di andare lì, era il tempo di andare a letto per i bambini, Alice ha detto you know what, I'll hold down the fort, controllo la casa, tu vai a controllare lì e siamo, ci siamo divisi in quel momento, io ho preso la macchina, ho volato qui, quando sono arrivato, c'erano già i carabinieri e niente, ti lascio continuare. E niente, quindi sono arrivati i carabinieri, è arrivato Michael, la prima cosa che ovviamente ha fatto Michael, ha guardato se tutto era a posto, cioè le attrezzature tutte e non mancava niente. Sì, io quando ho entrato devo dire che pensavo che tutto era andato, perché quando ho entrato la persona che mi ha aperto la porta, perché ho suonato, perché avevo anche lasciato le chiavi in macchina a quel punto e nel panico ho detto, so che i carabinieri sono su, ci sono altre persone su già, quindi la persona che mi ha aperto la porta ha detto, quindi come va, lui ha detto ci sono casini, vuol dire che è tutto andato. Quindi sono volato sulle scale, entrato nell'ufficio, guardato subito sulla scrivania di Alice, laptop c'era, guardato sulla mia, laptop c'era, guardato sulla scrivania c'era l'iMac, volato di qua nel studio di registrazione, c'erano tutte le telecamere, ci sono i microfoni, c'è tutto, nel senso che neanche un filo è spostato e anche se sono entrate di quella finestra proprio lì, non è che hanno lasciato danni, non hanno fatto casino, non hanno fatto anche molto careful con la nostra attrezzatura, nel senso che, no, è stato tutto perfetto. Sì, e quindi sì, hanno fatto il giro della casa, aperto i cassetti, cercavano… Ha aperto armadi, ha aperto cassetti, tirato fuori cose, quindi questo ci ha fatto sentire molto violati, cioè parliamo secondo di questo, che quando senti che una persona entra nel tuo spazio, a prescindere dal fatto che siamo estremamente grati di nuovo, estremamente grati, grandi gratitudini, che possiamo… che non hanno rubato niente, che le cose non sono andate male, che non eravamo in casa noi, perché è uno spavento del genere, vabbè. E siamo estremamente grati di tutto questo, però ci siamo sentiti molto violati, cioè è strano poi toccare delle cose che non sono state toccate, persone che erano qui, te le immagini dieci volte la scena della persona che entra, del vetro spaccato, della persona che guarda le tue cose, vede i tuoi bigliettini, le cose che hai scritto, le tue cose personali quella fine. Noi qua non avevamo niente, niente oro, niente cose di valore, perché non abitiamo qua, quindi avevamo niente e non hanno trovato niente, non ci siamo riusciti ad accorgere di una cosa che se n'è andata, nel senso che i carabinieri ci hanno chiesto ma che cosa vi hanno rubato? Non possiamo dirlo, magari hanno preso, non lo so, una bigiotteria che era qua da tempo e non ce ne siamo accorti, può essere, ma niente di valore, niente che avesse valore per noi. Sì sì sì, e quindi adesso nascono anche dei conspiracy theories di cosa hanno venuto a fare in questo ufficio. Niente, secondo me è successo che sono entrati cercando oro, gioielli, orologi, cose facili, soldi, cose facili per prendere e scappare e rivendere e non telecamere, attrezzature che comunque devi spostare, poi se lo vuoi rivendere, c'è serial number, c'è find my iPhone, find my iMac, cosa un po' più difficile da vendere, da vendere e di liberarti. E quindi niente, sicuramente… E poi sono stati spaventati subito, per fortuna, grazie anche che la persona sopra si sia presa a cuore questa cosa e che ci abbia… Sì, e quindi grazie al doorbell sono andati via prima di poter prendere le cose. Esatto. E quindi è andata bene nel mare. Sappiamo l'allarme più assoluto che copre tutto, quindi… Sì, c'è anche questa cosa mai vista prima, che ho mai visto prima, perché anche in Canada avevamo un sistema d'allarme con l'app e tu dici guarda, ho l'app, lo posso aprire e chiudere dal telefono, ho le telecamere, posso vedere la casa anche se non sono a casa, ma una cosa che ho mai visto prima è questa cosa che si chiama a smoke bomb, c'è una bomba di fumo. Si può dire così? Bomba di fumo, sì. Bomba di fumo, non so se mi prende in giro o si dice così davvero, ma comunque l'accetto, c'è una bomba di fumo che noi possiamo cliccare, se vediamo c'è qualcuno in casa con le telecamere, possiamo cliccare e la stanza o la casa si riempie di fumo e quindi la persona non può più vedere niente e deve andare via, quindi è una cosa… O c'è più probabilità di prenderla, diciamo, di coglierla sul fatto. Bene, vi abbiamo raccontato questa cosa, quindi voi per cosa siete grati oggi? Ricordiamoci sempre di prendere un momento da una giornata di gratitudine, nel senso che ci sono tante cose scontate, come ad esempio alcune cose, la sicurezza è la nostra casa, piuttosto che la salute per molti di noi, purtroppo non per tutti, però quando ce l'abbiamo, cioè non ricordiamola solo quando non ce l'abbiamo più. Esatto. La salute. Cose semplici ma fondamentali. Sì. E a volte noi ce lo dobbiamo davvero, ci dobbiamo forzare di ricordarci, di provare questa gratitudine per queste cose. Sì, e anche perché voi siete i changers, avete la responsabilità di andare fuori nel mondo e cambiare il mondo, come noi ci sentiamo questa responsabilità, noi abbiamo anche, solo per darvi un po' di anche dietro le quinte, noi abbiamo implementato questo momento di gratitudine anche con il nostro team, quindi ogni lunedì quando sentiamo il team chiediamo tutti per cosa sei grato oggi e cambia un po' l'energia del meeting, della call, della settimana e quindi anche voi non esitate di quando uscite, quando incontrate un amico, un'amica, genitori, parenti, anche un straniero, what are you grateful for? Chiedili, chiedili e forse gli fai riflettere e dire sai io sono grati per questo e gli fai avere quel momento di gratitudine e tutte le cose belle, sensazioni, ormoni, chemical reaction nel cervello che ti fa sentire bene nel momento di gratitudine. quindi un'altra sfida per voi perché avete la responsabilità di questo. Esatto. E parlando di gratitudine c'è anche un paio di persone che vogliamo ringraziare. Sì esatto. Lo vuoi dire tu o faccio io? Sì dai, la prima persona che vogliamo ringraziare, siamo molto grati che stamattina siamo arrivati in ufficio e è arrivato questo. Un libro. Un libro, è arrivato un libro che ci hanno regalato, ce l'ha regalato l'autrice quindi ha molto valore per questo motivo, che si chiama Laura Donadoni e il libro si chiama Come il vino ti cambia la vita, stare di rinascita, coraggio e ritorno alla terra. Prefazione di Oscar Farinetti. Sì e Laura, se non ti spiace ti interroppo, Laura ci ha scritto su Instagram e ha chiesto ti posso mandare questo libro perché nella puntata numero due, nell'episodio due del podcast, il cambiamento, abbiamo parlato delle parole di Oscar Farinetti, dopo abbiamo parlato con lui e ha detto queste fasi c'è la partenza, c'è la tornanza, c'è la restanza. Ne abbiamo parlato nell'episodio numero due e lei ha detto lui nel mio libro, perché lui ha scritto l'introduzione, se non sbaglio, la prefazione, ha detto qualcosa molto simile e quindi le voglio mandare libre, quindi non è una ad, non è una sponsorizzata, Laura non ci ha chiesto di parlarne, non ci ha pagato. E solo un grazie per il regalo, molto carino e ci ha fatto molto smile, made a smile, sorridere. Oggi quando siamo andati in un ufficio c'era questo package che ci aspettava. Chiudo con la restanza, non voglio affatto dimenticarla. Se mai deciderete di tornare, se mai metterete in atto la mossa e la tornanza, sono certo che potrete essere protagonisti di una restanza molto proficua per il nostro paese. Bello. Bellissimo. Grazie Laura che è una nostra follower e che vive a San Diego. Ascoltatrice del podcast and fellow changer. Fellow changer. Quindi grazie, lo leggeremo molto felicemente. Sì. E tanta gratitudine e anche gratitudine verso un'azienda che ha pensato a noi, di nuovo, gifted, momento gift. Gratitudine per Mustela che ci ha mandato questo bellissimo pacco, bellissimo, bellissimo. Anche questo non è un ad, è un regalo, è un regalo gifted e siamo felici di aprirlo insieme a voi. Sì. Sì. E' un regalo che ha pensato ai nostri bimbi. Anzi, fammi anche fare vedere i prodotti. Esatto. Che cosa c'è? Che ha pensato ai nostri bimbi, a Juliet e a Sebastian. Mi piacciono molto le aziende che stanno portando avanti il cambiamento. Quindi è un endorsement che non è un ad, ma è un endorsement di aziende che stanno tenendo duro in questo momento di grande cambiamento mondiale. E mi piace molto unlockthechange.it, se volete andarlo a vedere, scoprire di più. Sì. E Sebastian farà il bagno con il gatto degli stivali, detergente Hydra Bebe, che mi piace molto questa, tra l'altro. C'è Pinocchio and Rapunzel. Rapunzel, il gatto degli stivali. Quindi è una bellissima linea di Mussela. Grande! Quindi siamo grati, grati, grati di essere arrivati in ufficio e aver trovato questi regali. E voglio anche dire che, di nuovo, non è un sponsorizzato, non ci hanno pagato per questo, è un regalo. Abbiamo voluto dire grazie pubblicamente e non lo facciamo perché vogliamo che adesso le persone dicono, ah, fanno vedere i regali, quindi rimanno un sacco di regali. Non vediamo regali se volete mandarlo. Nel senso… Non lo buttiamo via, però… Non lo buttiamo via. Ma non faremo neanche questo ogni singola volta che dicevamo un regalo. Esatto. E non ce l'aspettiamo, nel senso non è che stiamo chiedendo indirettamente per regali. Ok. Ok. That was a pretty long intro actually. Partiamo, esatto, sul concetto di parità di genere. Rispira, Alice. Lascia andare. Lascia andare. Alice stamattina ha meditato, forse è stato perché sapevo che oggi parlavamo di questo e voleva stare un po' tranquilla perché… È dura, è dura per noi mamme, imprenditrice, donne. E anche per noi uomini, papà, imprenditori… Meno. Dai, meno, meno. Meno. 100%. Posso partire io, dai, entro nel vivo. No. Devo anche dire che secondo me è molto importante anche per noi uomini di accorgerne di questa cosa qua perché sì, noi siamo molto più privilegiati delle donne, dobbiamo dirlo. siamo privilegiati, qualcosa che le donne in questo ambito non possono… nel senso noi non possiamo capire cosa passano le donne in questo ambito perché noi non abbiamo quel… come si può dire… nel momento che noi vogliamo fare qualcosa e siamo la persona, ci stiamo mettendo in quell'ambito lì ma gli occhi vanno sempre all'altra persona o l'aspettativa è su di te per qualcosa che tu dici perché è sempre su di me. Non so se mi sono spiegato bene. Not benissimo. Ti faccio un esempio, Alice in banca per Tot, io sono lì con lei ma mi guardano a me quando mi parlano. Stiamo comprando una macchina insieme dal conto nostro, anzi delle volte anche dal conto corrente del nome di Alice ma parlano solo a Michael. E quindi questa situazione che diciamo io volevo parlare di questa parte dell'uomo perché io mi accorgo di queste cose e mi sento che è qualcosa che dobbiamo fare e lo so che puoi parlare, ti lascio parlare tra un attimo ma secondo me è importante perché noi non ci teniamo conto di cose che possono passare le donne su questo e quindi dobbiamo aprire la mente, aprire gli occhi e vederlo perché abbiamo un po' di privilege nostro perché siamo nati e di nuovo non è che io, Michael, ho scelto di essere nato uomo con questo tipo di privilegio che noi vediamo che succede. sono nato così e quindi non mi devo sentire superiore in diritto, aspettative diverse e niente adesso ho finito, ti lascio iniziare. Sono molto proud di Michael, di questo. Grazie. Molto, molto, molto. Molto privilegiata ad avere una persona vicina così. Partiamo da questo, dai parto da una cosa che mi fa star male, che mi tocca nel profondo. E adesso che ho parlato mi sento, no, non ridere, mi sento, è importantissimo. I cannot speak in this podcast. È importantissimo che io parlo adesso prima che lei inizia perché sapete che adesso che lei inizia avrò fatica perché lei ha tanto, tanto da dire. Quindi volevo solo dire, volevo riservare o prendermi, prendermi con la forza questo spazio che ho preso e adesso mi posso rilassare e ascoltare. Ok, thank you. E poi dirò anche la mia quando ho in un momento. Ok, thank you. Non abbiamo dubbi. Vai. Allora, parto da una cosa che mi fa star tanto male, tanto, tanto, tanto male. Quindi, cioè, non parto neanche dal ego, non ego. È una cosa che mi fierisce tantissimo. Alice è brava, ma Michael è un papà. Bravissimo. Michael è sempre presente. Michael è fantastico. Michael è tipo... Thanks, people that say that. Perché? Analizziamo un po' questa cosa che mi fa stare molto male. Allora, anzi, partiamo dal background. La nostra coppia nasce come paritaria. Quindi nasciamo tutte e due con una grande ambizione lavorativa, una grande ambizione di affermare l'individuo. Siamo due individui che hanno scelto di camminare insieme, ma due individui rimaniamo e l'importanza di un lavoro che ci faccia sentire realizzati per noi è un valore. Per noi, per Alice e per Michael. Nel momento in cui abbiamo scelto di iniziare a costruire una famiglia, abbiamo fatto sicuramente un discorso e abbiamo detto, nessuno dei due sarà una parte preponderante da una cosa o dall'altra. Quindi, avendo scelto di fare un business insieme, abbiamo anche deciso di essere genitori assolutamente paritari. Si possono fare scelte diverse nella coppia, assolutamente, però nel nostro caso è così. Quindi non sto dicendo che la nostra scelta è quella che ci si dovrebbe aspettare. È ovvio che entrambi i genitori e giusto contribuiscano, questo è assolutamente giusto, però ci sono coppie che fanno scelte assolutamente diverse. Però, data la nostra scelta, la percezione esterna è che Michael sia un esemplare unico perché si prende cura dei figli. E io sia, anzi, diciamo questo, lo standard è qui per chi guarda su YouTube, quindi lo standard è qui. Allora, la mamma, cioè la mamma che lavora non c'è mai abbastanza per i figli. Il papà che lavora, perché lavora? Il papà che lavora però c'è con i figli perché la moglie o la mamma lavora tanto quanto il papà e quindi il papà c'è tanto quanto la mamma, invece è sopra di dieci volte, ok? Quindi io e Michael facciamo lo stesso lavoro, lavoriamo lo stesso numero di ore, ci prendiamo cura dei figli. Lo stesso numero di ore, di nuovo. Nel senso che siamo assolutamente co-parent. Sì, e su questo voglio dire siamo co, noi diciamo spesso siamo co-humans perché davvero ci svegliamo la mattina, facciamo le cose insieme la mattina con la famiglia, poi andiamo a lavorare insieme durante il giorno, we're co-workers, we're co-founders, we're co-parents, quindi siamo più o meno insieme quasi 24 ore al giorno. E condividiamo le responsabilità, nel senso che dal punto di vista aziendale abbiamo lo stesso numero di responsabilità e dal punto di vista familiare sentiamo di avere lo stesso numero di responsabilità. Non è che io mi sento più responsabile con i bimbi, Michael è tanto quanto sono responsabile io. Però la percezione è proprio diversa, la percezione è che lui sia un dio e io che faccia il minimo indispensabile. Quando nella realtà facciamo esattamente lo stesso. Sì, interessante. Perché succede questo? Interessante a livello di aspettativa, di stereotype. Stereotype. Stereotipo. I'm gonna just say stereotype perché secondo me se dico sempre stereotipo sbaglio un sacco e diventa anche più difficile da ascoltare. Quindi il stereotype dice che l'aspettativa di essere genitore è più sulle spalle della donna e quindi se l'uomo c'è per quelle due ore alla sera, almeno c'è per quelle due ore alla sera e quindi wow, ok? Invece la donna, se c'è per la mattina e la sera come c'è l'uomo, dice potevi fare di più. E quindi c'è questa aspettativa basata sul gender, vero? Sul ruolo. Assolutamente. La mamma sta a casa e se non sta a casa perché lavora, sacrificia l'essere mamma. Non ci tiene così tanto per i bambini. Tutte queste assumptions, tutti questi giudizi che escono fuori perché lei decide di lavorare, non dico la scelta giusta o sbagliata, ma è quella che è per quella persona, ma l'uomo si è aspettato che lui va a lavorare. He's the breadwinner. Lui porta a casa… Come il pane. Come il pane. Ma qualcun altro ha detto qualcosa simile, ma un'altra parola… Come si può dire? La pagnotta. La pagnotta. Qualcuno porta a casa… L'uomo che porta a casa la pagnotta. E la donna no. E quindi lui… È normale che lui non è a casa perché… È normale che lui abbia meno tempo per i figli, che lui abbia meno responsabilità per i figli. Questo a prescindere dalla realtà. Cioè queste sono convinzioni che ci portiamo avanti a prescindere assolutamente dalla realtà, perché si applicano perfettamente alla nostra coppia. Dove Michael riceve un sacco di complimenti, io sono considerata la madre del genere, che è indipendente e che dovrebbe invece dare molto di più ai figli. Sì, e su questo voglio solo dire che quando noi… C'è l'aspettativa. Se fai meno dell'aspettativa, vieni visto in modo negativo. Se fai di più dell'aspettativa, vieni visto in modo positivo. Quindi per me, diciamo, l'aspettativa è qua. Io perché, diciamo, il modo in cui abbiamo deciso di crescere i nostri figli, di creare la nostra vita lavorativa, genitoriale, insieme. Perché ho visto… Sono visto che faccio di più dell'aspettativa. Wow! Alice ha visto di meno dell'aspettativa. Quindi sì, è brava, ma… Potrebbe fare di più. Anche se siamo o facciamo le stesse cose. Esatto. Incredible. Basato purely su stereotype and expectation. E non solo. L'altra cosa molto interessante è che quando c'è l'azienda, e poi ti faccio parlare su questo, l'azienda lo gestisce l'uomo, ovviamente. Perché è l'uomo che porta avanti l'azienda. Expectation. Non dico che è giusto, vero, sbagliato. Expectation. Stereotype. L'uomo fa impresa. La donna? Cosa c'è la donna? Fa la segretaria. Assistente, forse. Assistente. E quindi anche se nel lavoro siamo co-founders, siamo co-titolari, siamo co-CEO, co-tutte queste cose, co-responsibility, Alice viene visto come secondaria da qualcuno esterno. Ovviamente voi che ci guardate non avete questo punto di vista di Alice, ma spesso di qualcuno. Anche se qualcuno ha scritto di voi, eh ma grazie, tu hai vicino Michael e quindi il successo viene per quello. È facile perché hai un marito che lo porta avanti e tu segui. E quindi anche qua, interessante, aspettativa che tu non hai quel tipo di ruolo, che non ti viene riconosciuto la tua bravura, non ti viene riconosciuta la responsabilità, non viene riconosciuto, nel mio opinione, abbastanza quello che fai. Di nuovo, basato su l'aspettativa del tuo ruolo. Esempio, facciamo un esempio di questo perché è interessante. una persona che… Prima che tu continui… It's very annoying. I know, I know, I'm so sorry. Apprezzo che tu, come si può dire, tu… Ti lasci fare. Ti lasci fare, che hai la pazienza con me. Apprezzo moltissimo perché vedo già un po' di rosino che sta uscendo, un po' di… È il trucco, it's a make up. I'm not sure about that. Forse un po' di emozioni. Ma comunque voglio inglobarli loro nella nostra conversazione, si può dire inglobarli. Sì, sì. Quindi cosa ne pensate voi? Avete vissuto anche voi qualcosa del genere o no? Cosa ne pensate? Se siete vittimi di questo tipo di cosa, donno o anche l'uomo, perché anche l'uomo può essere ovviamente preso in questo, ti posso anche fare un esempio dopo perché voglio lasciare parlare dice, ma se ti senti che sei stato… avevi vissuto una situazione del genere, noi le vogliamo sapere perché ne abbiamo parlato brevemente su Instagram, ok? Ma qua, se siete su YouTube, potete lasciare un commento un po' più elaborato. Fate sapere. Leave your thoughts. Leave your experience. Un'esperienza. Se siete su iTunes o Spotify, ci trovate su YouTube perché lì c'è la sezione dei commenti che purtroppo sul podcast non c'è. Alice e Michael ci trovate su YouTube e lasciate un commento e fate sapere. Ok, vai. Dicevo esempio su questa cosa dell'azienda. Collaboratore che ha lavorato con noi per un po' di tempo deve fare un'introduzione di un altro imprenditore per noi perché l'altro imprenditore probabilmente ha mostrato un qualsiasi interesse per conoscerci. Il nostro collaboratore ha mandato una mail a Michael dicendo Ah, ciao Michael, ti presento XYZ perché ha una storia molto comuna alla vostra storia aziendale. Quindi non alla storia di Michael che capirei, cioè fosse, non so, che ha fatto Iron Man come ha fatto Michael, vuole introdurli come amicizia, ma proprio un'introduzione imprenditoriale, cioè probabilmente di business. Sì, o forse potete collaborare insieme. Potete collaborare, eccetera. Io non ero neanche in coppia. Cioè, ragazzi, non ero neanche in coppia della serie. Io non sono vista con gli stessi occhi, soprattutto dagli uomini. Questo è vero, soprattutto dagli uomini. C'è un maschilismo dilagante in Italia. Sì. Dilagante proprio. Perché gli uomini, come dicevo, anche spostano lo sguardo verso Michael. Cioè, le volte che noi ci troviamo, io, Michael e un uomo, per un contratto, per una decisione, un collaboratore, un ufficio pubblico, la direzione degli occhi va verso Michael. Come se Michael fosse il deterrente delle scelte della coppia, perché la donna non è abbastanza in grado. Voglio spendere due parole su questo cosa comporta. Nel senso che il problema grande, per me personalmente, ad esempio, è che io devo combattere tutti i giorni con queste convinzioni che alla fine risiedono anche dentro di me. O meglio, a livello subconscio, queste cose, il fatto che, ad esempio, io mi senta un giro... Io dico, Michael, ma tu ti senti mai in colpa verso i bimbi? E lui mi dice, ma va, no, perché mi devo sentire in colpa? Ci siamo tantissimo, siamo sempre presenti, non abbiamo, ad esempio, non li lasciamo mai dormire da nessuna parte, ci siamo sempre tutte le sere prima del bagnetto, non usciamo mai senza di loro. Cioè, veramente, noi diamo un sacco a questi bambini. Oltre... Mi immagino una situazione dove magari c'è la nonna, il nonno, dove li tengono molto spesso. Noi non abbiamo questo tipo di situazione. Noi bene o male abbiamo aiuto quando andiamo a lavorare. Il secondo che finiamo di lavorare è tutto dedicato alla famiglia completamente. Quindi Michael mi dice cosa vuoi fare di più. E io dico, eh, io mi sento in colpa. Perché? Perché a livello subconscio c'è questa vocina che mi dice tu non sei abbastanza mamma. Perché non vai nel... non vai a combaciare con la definizione di mamma, che si sacrifica in tutto e per tutto l'individuo per essere mamma. Perché va bene che tu sia indipendente, come ha scritto qualcuno su Instagram. È giusto che le donne siano indipendenti, ma fino a un certo punto. che per me è stata veramente una frase che è rimasta... mi è rimasta impressa. Perché ancora siamo a questo livello. È ovvio che razionalmente sono molto consapevole invece di volere un altro tipo di maternità, intanto di trasmettere ai miei figli i miei valori di indipendenza, che vedano una donna realizzata. Credo che io come mamma a tempo pieno non funzionerei, perché non sarei realizzata in primis come persona, sarei molto frustrata, io Alice intendo. Però devo riuscire a convivere con queste vocine. Quando le persone mi dicono quanto è bravo Michael, a me nessuno ha mai detto quanto sei brava. Proprio per questo motivo. Proprio perché è uno stereotipo. Sì, sì sì sì. Anche qua la cosa molto interessante che tu hai detto, che è il coso subconcio. Perché anche l'esempio che ha fatto Alice, non è che questa persona ha voluto farlo con intenzione. Forse non si è neanche reso conto. Come se quando qualcuno dice questo Alice, Alice sei bravissima, ma Michael è... e così non si rendono conto dell'implicazione di quello che stanno dicendo. E spesso quando le persone dicono che sono per la parità, quando sono per la donna che fa questo, che è l'uomo che aiuta in questo modo, la donna che fa impresa, è una cosa dirlo con con consciously, è dirlo io voglio pensare così e quindi parlo in quel modo. Ma vedi quando le persone parlano senza quell'elemento di consciousness in quel momento, lo faccio perché lo so che lo voglio fare, ma esce fuori il subconcio in un momento di... parlando senza quel momento di consciousness, vedi la realtà delle cose. Per esempio, una giornata super impegnativa, lo so che devo fare questa mail per Alice e Michael, la mando e non mi rendo neanche conto che parlo solo a una parte delle due. perché in un momento che noi siamo su autopilot, quando noi andiamo in piloto automatico, il subconcio agisce tra di noi. Nel senso, le nostre azioni sono basate su cosa c'è nel nostro subconcio. E questo perché quando ci sono 10.000 cose da fare, ovviamente il cervello razionale presente non può fare tutto e quindi fa la cosa che deve fare, ma il subconcio poi fa tutte le altre cose. Esempio, noi stiamo guidando per andare a lavorare, chi guida la macchina? I tuoi pensieri? No. Non è che tu dici, adesso faccio il clutch, come si dice il clutch in italiano? La frizione. Quello, cambio marcia, ok, adesso sto accelerando, ok, qua devo mettere sinistra, quindi metto il... La freccia. La freccia, che non uso mai, per questo non so come si chiama. Usa la freccia, giro a sinistra, adesso devo accelerare, quindi non pensiamo così. Tutto succede in automatico dal subconcio, perché quello è stato programmato di fare così. È nel stesso modo che noi siamo programmati, ti vedo a fare così, non siamo su questa telecamera, quindi adesso guardo qua. È nel stesso modo che il subconcio è programmato per fare queste task in autopilot, mentre che noi pensiamo a quello che ci ha detto il marito stamattina, quello che il nostro bambino ha fatto, come ci siamo rimasti male di questo, come non vediamo l'ora di vedere quell'altra persona oggi, come abbiamo questo meeting. Il rush, sai, tutti i pensieri vanno, il subconcio fa tutte le altre cose, come guidare, eccetera. Stessa cosa come quando noi parliamo o agiamo, anche qua è importante, non solo le parole che diciamo, ma anche il modo in cui noi agiamo. Quando c'è una decisione guardiamo l'uomo. Non ci rendiamo conto che lo facciamo, ma lo facciamo perché il nostro subconcio, non è neanche colpa vostra, è programmato così. Sì. E questo è stato programmato durante la nostra vita, durante la nostra infanzia, durante tutto quello che noi abbiamo visto. Quando noi eravamo bambini, quando eravamo bambini due anni, tre anni, cinque anni, dieci anni, abbiamo visto le persone comportarsi in un certo modo e noi abbiamo imparato, il nostro subconcio ha registrato questo comportamento e ha detto questo è il modo in cui l'uomo si comporta, questo è il modo in cui la donna si comporta, questi sono i ruoli, queste le azioni che loro fanno. Ma oggi nel 2020 non possiamo più pensare di che sia la norma. Cioè può essere una scelta, ma non è la norma. Quanti di voi donne dicono mio marito, il mio compagno mi aiuta? Ma se noi ci aiutassimo a vicenda, l'abbiamo mai pensata in questo modo? Perché la donna è aspettata, cioè l'aspettativa è che la donna faccia tutto in casa, eccetera, eccetera, si occupi di tutto e l'uomo al massimo aiuta. Invece no, la corresponsabilizzazione. Voglio anche aprire una parentesi qui, perché io e Michael abbiamo fatto una scelta familiare di essere co-parent. e di avere le stesse responsabilità aziendali. Ci sono coppie che fanno scelte diverse. Ad esempio l'uomo magari decide di prendere, questo è un po' più raro, prendere un'aspettativa per essere a casa con i bambini e magari la donna avere un ruolo più alto e quindi essere più coinvolta nella parte finanziaria, diciamo, della famiglia. O viceversa, dove l'uomo lavora e la donna sta a casa, ho un lavoro di meno responsabilità, meno ore, quindi fa di più per i bambini. Questo non significa non essere paritarie. Attenzione, cioè non c'è una cosa di questo tipo. La parità di genere significa creare pari opportunità. Poi come una coppia sceglie o come una persona sceglie di gestire l'opportunità è un altro discorso. Il punto è che le opportunità non sono date a livello paritario. Questo nasce un po' dai nostri giudizi. Quindi spesso poi in azienda ci si ritrova con donne che sono, purtroppo appena fanno un figlio, sono messe in un... sono degradate di ruolo, sono messe a fare cose che non piace, non vengono fatti scatti di carriera se non addirittura il mobbing o il licenziamento. Queste non sono pari opportunità, perché qualcuno mi dice sì ma voi siete co-parents perché è questo motivo? Io è ovvio che magari sto a casa e faccio di più con i bimbi. Certo, ma questo non significa che ci debba essere una differenza necessaria di genere. Non significa che questo sia un obbligo, punto uno, per nessuna. Quindi non significa che quando ci sposiamo il marito dice ma tu sei donna e quindi devi fare tutte queste cose qua. Non significa che dobbiamo essere trattate diversamente a un colloquio di lavoro. Non significa che non abbiamo le stesse opportunità. Poi le scelte pratiche stanno ad ogni famiglia, ma dobbiamo essere ok con queste scelte pratiche. Sì. Quindi sono due cose diverse, le opportunità e le scelte. Perché qualcuno dice sì ma voi avete la parità per questo motivo. Sì, però creiamo le pari opportunità. Cioè questo che dobbiamo iniziare a parlare in questo modo, di pari opportunità. Sì sì, solo per continuare di nuovo sul filone che anche stavo andando prima, che adesso che porti su questo concetto. Interessantissimo perché, come ho detto prima, il nostro subconscio, le nostre idee del mondo sono state formate anche senza il nostro volere. Noi non le abbiamo formate, noi abbiamo imparato del nostro ambiente. Quindi non è colpa tua, non è colpa nostra. Ma come changers sappiamo che abbiamo la possibilità di riprogrammare questo, di cambiarlo consciamente. Dire, guarda, io non mi piace questo, lo voglio cambiare. Non mi piace il modo in cui penso così, mi sento in colpa così. E ovviamente quando c'è questo senso di colpa è perché il nostro subconscio ci dice, c'è questa aspettativa. E poi tu dici, ma io voglio fare quest'altra cosa che va contro quell'idea di come funziona il mondo, vero? E quindi noi dobbiamo fare un, ci dobbiamo impegnare per riprogrammare questo. Anche perché nasce un conflitto interno. Cioè qua vogliamo arrivare che se io nel mio subconscio, se non lo vado a riscrivere, a riprogrammare, se non ragiono consciamente su questi punti, ma dico, ma sì, alla fine è sempre stato così. Però dentro di me vorrei magari, non so, fare carriera in un certo modo, ma non mi do il permesso di lavorare a livello conscio su queste credenze limitanti che ho e rischio di creare quei grandi conflitti interni. Quindi magari ci sono donne che avrebbero voluto, vorrebbero molto di più dalla propria vita, molto di più professionalmente, ad esempio, vorrebbero essere considerate, avere opportunità paritarie, persone, però sono sempre state zittite. Sono sempre dal papà, dal nonno, dall'amico, dal marito, dal fratello, dalla mamma, perché noi impariamo ad essere donne anche dal nostro, dalla mamma, cioè dal nostro modello femminile. Come impariamo, come si comportano gli uomini dal nostro modello maschile. Quindi magari sono state zittite tutta la vita e quindi si sentono solamente a disagio ad avere determinati pensieri di libertà e indipendenza. Per questo si parla di opportunità e di quello che ne vogliamo fare delle opportunità, poi lo decidiamo noi, ma consciamente, non inconsciamente. Quindi tutti quegli sguardi che vanno all'uomo, tutte quelle differenze palesi al lavoro, tutte quelle differenze aspettative dove la mamma deve essere la mamma, dove la donna deve essere la mamma perfetta, dove è solo aspettata quella parte e se anche ti ritagli una parte professionale sei vista come degenere e non presente, egoista. Esempio. Ah, l'uomo è di... Ah, prendiamo Taylor Swift, che adesso mi ha ispirato un paio di concetti. Dopo vi spiego perché Taylor Swift. Sì. Anzi, mettiamo anche un piccolo clip. Give me an esempio. Ok. Un uomo fa qualcosa, è strategico. Un uomo fa la stessa cosa, è calcolato. Un uomo è permesso di reagire, un uomo può solo reagire. Praticamente, l'uomo imprenditore che porta a casa un sacco di soldi, coraggioso, successo. La donna, egoista. Quindi, per dire la stessa cosa, uomo e donna che scelgono di darsi completamente al lavoro, magari, o parzialmente, però dare una buona parte al lavoro, due definizioni diverse. Successo, egoista. Poi, uomo che ha un'idea brillante e che magari si va a prendere le cose come le vuole. Questo l'ha detto Taylor Swift. Strategico. La donna calcolatrice. Quindi, modi diversi per esprimere la stessa cosa. Perché l'uomo ha tutto il diritto di fare quello che vuole a livello lavorativo. L'uomo ha il diritto anche di... Un'altra cosa, sempre, non so se l'ha detta sempre Taylor Swift, che diceva L'uomo ha reagito, la donna, she overreacted, ha esagerato. Tipo, un uomo si arrabbia con un collaboratore. Beh, lui ha asserito il suo potere. La donna ha overreacted, aveva il ciclo, magari. Quante volte lo sentiamo? Ha il ciclo oggi. Questa è un'affermazione sessista. Molto. Assolutamente. Sì, sì, sì. E secondo me è molto, molto... Io non vedo l'ora di leggere i vostri commenti, perché lo so che è qualcosa molto importante da uno condividere, parlarne, metterlo fuori, perché è qualcosa che deve cambiare. Nel senso, qualcosa che ovviamente possiamo capire da dove è originato questa cosa. Certo. Ovviamente lo sappiamo che l'uomo ha visto così, con questo motivo, con questi aspettativi, perché cento anni fa la vita era un po' diversa di quello che è oggi. E quindi adesso che abbiamo, siamo evoluti come esseri umani, come individui, come donna, come l'uomo, e i ruoli sono cambiati, si sono diventati, io almeno spero che possono diventare più pari, anche se non lo sono adesso, ovviamente anche qua c'è da cambiare anche il nostro programmazione, perché anche le nostre, il nostro subconscio, che era programmato del, per esempio, genitori, papà, mamma, che erano programmati dai loro genitori, papà, mamma, che erano programmati... E quindi quello è arrivato nel tempo, e pian piano, con più consapevolezza, con più parole, con più piattaforme, come questa, per questo noi lo vogliamo usare anche per condividere questo messaggio, con le masse di provare a fare più cambiamento. E di nuovo, se siete d'accordo con questo, be the change, anche voi dovete parlarne. Quindi se il vostro partner, l'uomo o donna, ti tratta in questo modo, basato su le aspettative del tuo ruolo, e tu non sei d'accordo di questo, invece di dire, forse come un tuo genitore, un tuo amico, un tua nonna ti ha sempre detto, guarda, il tuo ruolo è di, non dire niente, il tuo ruolo è di fare, per la donna, per esempio, spesso, eccetera, così. E invece per l'uomo è di dire, tu devi fare quello che devi fare. E queste sono mindsets che, se tu non ti piace, devi, hai la, come si può dire, responsabilità di parlarne. E questo funziona anche dall'altra parte. Esatto. Su questo voglio anche parlare, perché non è solo su una parte. Sicuramente, come ho detto prima, è molto importante che mettiamo il focus sulla donna quando si parla di parità, ruolo, stereotypes, eccetera, perché noi, grazie alla storia, come abbiamo detto, abbiamo avuto un privilegio che la donna, anche oggi, non ha ancora. Ok? Quindi, quello è importante da dire. Ma comunque, dall'altra parte, quando l'uomo, quando per esempio io, faccio un esempio, quando io voglio agire in un modo che va contro, tra virgolette, l'aspettativa del ruolo dell'uomo, che io vado a lavorare e sono poco disponibile per la famiglia, and that's ok, perché non è il mio ruolo, se io agisco, diciamo, non inconsistency, quindi come si può dire questo? Non in allineamento. Thank you, that's beautiful. Non in allineamento con questo, ovviamente anche il mio subconcio mi dà delle vocine che dicono stai perdendo opportunità lavorative, potrebbe fare questo, potrebbe fare oltre. Ok? Quindi è molto importante di anche vedere quello, e anche quello c'è da zittire a quelle parole lì, quelle voci lì che ti parlano, quando tu sai che tu vuoi essere diverso di quello. Quindi, esempio, io seguo, per esempio, un ragazzo che è un immobiliare, si dice così, un agente immobiliare, milione di followers, bravissimo, bello, curato, di successo, e io dico, guarda, lo vedo la sua vita, non c'è tanto a casa perché lavora, ha un'azienda enorme e fa le sue cose. E quando il mio subconcio vede questa immagine dell'uomo di successo così, c'è sicuramente una parte di me che dice, ah, mi piacerebbe poter fare quello, ma non ho tempo perché faccio più tempo per, per esempio, famiglia, per altre cose e così via. E quindi c'è comunque la voce che, c'è quella parte dove ho quasi un po' di FOMO, di fear of missing out, che dico, essendo più presente come papà, sto perdendo opportunità come imprenditore. E quindi anche lì, perché ho questi pensieri? Perché il mio subconcio mi dice che il tuo ruolo, diciamo il tuo ruolo, potrebbe o dovrebbe essere quello lì, e quando vai contro questo subconcio, ovviamente anche qua c'è un conflitto. Quindi papà che vogliono essere più presenti, donne che vogliono lavorare di più, cioè darsi il permesso di non essere lo stereotipo che ci si aspetta. Sì. Voglio anche dire una cosa, mi sono venute in mente due o tre cose troppo belle mentre parlavi. Lo puoi aspettare un attimino? Quanto? 37 secondi. Ok. Timer, 37 secondi sul screen, via. E adesso non so se l'editor metterà 37 secondi, ma comunque sto perdendo tempo. Anche lì, una mattina, forse avete visto su Instagram, ho aperto, stavo cambiando il pannolino di Sebastian o di Juliet, forse di Juliet, e ho aperto il pacco di, come si chiamano? Salviette. Salviette. O si dice, sul pacco salviettine. E c'era un sticker, perché era un pacco nuovo. E il sticker cosa diceva? Per aprirlo, per tirare fuori la salvietta. Grazie mamma. And I said, what? Really? E anche qua stereotype, che la donna cambia il pannolino e quindi l'uomo non lo vedrà neanche, non lo scrive neanche a lui e quindi sono rimasto un po' scioccato, devo dire, nell'anno 2020. Adesso non ho più tempo, quindi mi fermo. L'anno 2020 questo? I don't think that's right. Comunque. Volevo dire che nell'immaginario comune hai detto qualcosa che mi ha fatto, mi triggered something, quindi ha annescato un pensiero. Quanti di voi, vedendo un imprenditore online, pensiamo a qualcuno che in Italia conoscono, di famoso imprenditore super performing, pensiamo a qualcuno… Io non seguo tanti, quindi non potrei neanche dirti. Non mi viene in mente nessuno, neanche a me. Pensate voi a questa persona, se la conoscete. Esatto. Persona di successo online, che ha un grande business, che seguite, che sta crescendo questo business, eccetera. Vi è mai venuto in mente, ma magari non c'è abbastanza per i suoi figli? Pensate ora a Chiara Ferragni. Oh, what a great example. Quante volte… Imprenditrice, bravissima, ha creato un impero. Quante volte avete pensato non c'è abbastanza per suo figlio? Colpevoli tutti, eh, qua. Poi tutti colpevoli. Perché è dentro di noi, dentro di noi. Per questo voglio dire due cose. Parto dalla prima. Dobbiamo educare i nostri figli a questa cosa qua. Se vogliamo essere il change, dobbiamo essere il change per le prossime generazioni. Noi, io e Michael, ci impegniamo tanto in questo. Ci impegniamo a cercare il meno possibile di creare degli stereotipi. Per esempio, il papà fa il papà, non fa il mammo. Non è che se lui cambia i pannolini è un mammo. Cioè, lui fa il papà, quello che gli compete come papà. È la stessa cosa. Se Sebastian è esposto a giochi femminili, maschili, non c'è differenza di genere a questo punto. La curiosità viene assolutamente accolta nella nostra famiglia. Cerchiamo di non creare, appunto, differenza tra come tratto il maschio, come tratto la femmina. E soprattutto cerchiamo di essere due personalità, quelle che siamo io e Michael. Quindi, loro avranno una mamma che è la mamma ed è Alice con la sua personalità e il papà che è Michael con la sua personalità. Però non è uno stereotipo di la mamma fa solo questo e il papà fa solo questo. Perché in realtà vogliamo che davvero non crescano con l'idea che la donna debba fare determinate cose per forza e l'uomo no. Io non voglio, soprattutto perché voglio che loro si sentano estremamente liberi di esplorare e di esprimersi. E non si sentano bloccati in un bicchiere d'acqua, magari durante l'adolescenza. Perché non si sentono in diritto o si sentono in dovere di essere un determinato stereotipo. Cioè se Sebastian domani si rende conto che la sua più grande ambizione è quella di fare il papà di famiglia e ci tiene tantissimo e si sente che il suo ruolo nella società è quello di avere un lavoro di super successo, eccetera, mi dispiacerebbe molto. Quindi per me è molto importante dare questi messaggi in casa. Sì, o anche se vuole fare il ballerino e non il calciatore. Esatto, esattamente. Solo lì, non dico niente di più, solo metterla fuori così. Vedi la reaction dentro di noi quando sentiamo solo queste parole. Esatto. Poi un'altra cosa importante che ci tengo per persone che io ci sono passata. Questo femminismo, cioè questa voglia di riuscire a tirare fuori le pare opportunità, non deve portare le donne a pensare di non aver bisogno di niente o soprattutto di non potersi affidare in una relazione con un uomo. Perché questo è un po' il downside del femminismo. Quello urlato, quello eccessivo, quello dove la donna dice ci sono io e non ho bisogno di niente. Perché lì andiamo poi di nuovo a mascherare una fragilità. Noi come donne forti possiamo essere in grado di dire all'uomo ho bisogno. Non significa non essere più forte, anzi. Mentre quel non ho bisogno di niente di nessuno è una maschera di fragilità. Quindi il femminismo non si deve poi tradurre nell'eccesso del tutto mio oppure addirittura del odiare l'uomo in quanto specie. Cioè perché vedo a volte un po' questa tendenza. Non è colpa dell'uomo. Cioè è uno stigma sociale quello di cui stiamo parlando. Stiamo parlando di un problema sociale che riguarda l'uomo e la donna. Quindi come abbiamo visto. Ma soprattutto la donna poi non deve perdersi l'opportunità di avere questa energia femminile e maschile anche nella coppia. Nel senso che una coppia che sia anche formata poi da donna e donna, uomo e uomo. Però c'è sempre appunto un'energia maschile e femminile. Non vogliamo diventare solo energia alfa. Perché abbiamo paura a mostrare qualsiasi vulnerabilità perché dobbiamo essere indipendenti eccetera. L'indipendenza non si misura in non chiedere mai aiuto o non pensare che una sera l'uomo possa offrirci una cena perché è bellissimo così. Come io posso offrirlo a un uomo nello stesso modo però non devo neanche esagerare il contrario. Poi non so se mi sono spiegato. Sì 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 no certo secondo me è spiegato bene nel senso io ho capito tutto. Grazie. Se io capisco vuol dire che è stato spiegato. Ma sì nel senso quando vai sempre è sempre così. Quando tu esagi qualcosa è perché stai proteggendo qualcosa che tu non vuoi che le persone vedono. Esempio perché forse la visuale aiuta un cane che vede qualcosa che li spaventa. Cosa è la sua reazione? Spesso abbaiare perché quando abbaia e urla e spaventa forse quello non verrà più vicino a me perché dentro ho una paura allucinante e quindi faccio l'aggressivo per nascondere la mia paura. Spesso secondo me quello che sta dicendo è che spesso anche nel mondo femminismo adesso c'è un po' di questa tendenza di fare qualcosa simile. Cioè l'essere donna indipendente non toglie nulla all'uomo che debba essere indipendente anche lui è questo il punto che non è che dobbiamo togliere agli uomini dobbiamo semplicemente aggiungere a noi che è una cosa molto importante. Quindi a me piacciono tutti i movimenti femministi che rispettano anche l'individualità dell'uomo in quanto tale e siamo persone che ci rispettiamo è un po' come lavorare sull'empowerment della persona e cercare questa parità non disparità nell'altro senso. Sì 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 ho capito perfettamente nel senso spesso pensiamo così pensiamo che se noi dobbiamo arrivare a un livello dove vogliamo arrivare dobbiamo tirare giù gli altri così noi andiamo su se tiriamo giù gli altri non è così noi possiamo anche tirarci su per raggiungere una parità un livello dove tu vedi qualcun altro senza dover tirare giù qualcun altro. Nel senso non è perché qualcuno ha un certo cosa lo dobbiamo togliere da lui per averlo noi noi crescendo noi e migliorando noi lo possiamo fare noi nel senso la crescita poi si vedrà da noi non perché dobbiamo fare cose negative agli altri. Noi come azienda cerchiamo di davvero mettere pari condizioni pari opportunità è una cosa a cui teniamo è una cosa che vogliamo sicuramente perseguire uno dei valori più grandi perché le donne sono una grande risorsa soprattutto in un'azienda che parla tanto alle donne che è la nostra quindi sicuramente c'è una preponderanza femminile per naturalità non per scelta premeditata ed è solo una bellissima risorsa cioè un bellissimo è bellissimo io voglio dare un po' questo messaggio tanti imprenditori è vero che c'è la maternità è vero che un costo aziendale è vero non possiamo dire che non lo sia ma possiamo assorbirlo possiamo imparare davvero ad assorbirlo possiamo cercare di e di continuare anche a lottare con lo stato che aiuti tutte queste realtà imprenditoriali che le aiuti a sollevare un po' di più quello che è la pressione che si trova un'azienda con impiegati dipendenti in maternità e cercare dei modi quindi aziende giovani magari pensare a dei modi per avere un welfare dove i bambini possano avere un child care queste realtà all'estero sono pane di tutti i giorni in Italia ancora no è giusto lavorare imprenditori e stato insieme per creare qualcosa secondo me di bello perché le donne poi alla fine cosa fanno aumentano il prodotto interno lordo quindi l'Italia cresce con questo cioè l'Italia se diamo pari opportunità se diamo alle donne l'opportunità di sentirsi più alleggerite nella cura dei propri figli dove non hanno tutta la pressione su di loro se diamo l'opportunità di avere dei lavori più flessibili eventualmente e andare incontro l'economia si sblocca perché oggi la donna lavora cioè non è più che è solo uomo quindi è importantissimo si molto molto importante ovviamente the times have changed diciamo la realtà ha cambiato da 100 anni fa purtroppo alcune legge alcuni modi di fare sono un po' indietro ma la cosa bellissima è che non è troppo tardi possiamo comunque agire noi nel nostro piccolo sapendo che anche un piccolo cambiamento è comunque un cambiamento e ogni piccolo cambiamento uno sopra l'altro in continuazione verso il futuro farà una differenza quindi non diciamo ah vabbè l'Italia è così ah vabbè mio marito è così mia moglie è così ah vabbè è così boh cosa faccio non mi piace quella parola boh sai quella parola boh delle volte dico dai smettila di dire boh perché nel senso è come come essere completamente alienati dal 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 sistema dire boh ti dà ti dà davvero molto la sensazione di dire io non ho energia di fare niente quindi è così ma no non è così con come detto con ogni piccola cosa possiamo fare dei cambiamenti grandi e noi siamo orgogliosi della community che abbiamo qui perché sappiamo che è possibile vedendo voi leggendo i vostri commenti vedendo i vostri post vedendo anche come voi agite c'è c'è una possibilità c'è una grande possibilità anzi secondo me è una it's a sure thing nel futuro che questo mondo questo paese il mondo in generale migliorerà assolutamente grazie persone come voi e niente se vi è piaciuto questo video mettete un mi piace lasciate un commento per favore lasciate un commento io volevo anche sapere le vostre lasciate un commento con le vostre situazioni di dove avete sentito che non c'era una parità di genere per me è interessante perché qualcuno mi raccontava su instagram che anche lei con il marito sono titolari della stessa impresa e tutte le volte che entrano in azienda o in negozio dicono dov'è il titolare sono io nel senso incredibile quindi raccontateci questa cosa lasciateci un commento non facciamoci la guerra possono esserci idee diverse esatto con calma e con gentilezza discutiamo amabilmente perché è possibile avere idee diverse it's ok to disagree and we can agree to disagree possiamo essere d'accordo nel non essere d'accordo questo noi con voi e voi tra di voi esattamente e quindi anche qua se hai un'opinione diversa noi non dico che vai via esatto lasci pure il tuo commento se state ascoltando su itunes spotify il podcast audio comunque su youtube ci sarà una discussione quindi andate su youtube alice e michael su youtube lasciate un commento se non siete d'accordo o non siete d'accordo con qualcun altro un commento di qualcun altro il miglior modo di fare passare il tuo messaggio e non di urlare e di call names e criticare e dire parolacce il miglior modo è di farlo con calma e spiegare ok quindi noi ci fidiamo di voi nei commenti let's let's keep it a nice safe place un posto costruttivo esatto come sempre poi alla fine come sempre sì 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 esattamente e ovviamente se vi piace questo podcast non dimenticatevi di iscrivervi al canale youtube dove pubblichiamo un podcast ogni settimana questo questo vodcast su youtube e se state ascoltando su itunes spotify spreaker google podcast e tutti i luoghi dove ascoltate podcast iscrivetevi e non solo lasciateci una rating in review per noi è importantissimo per aiutare il podcast a continuare a raggiungere più persone per continuare a condividere questo messaggio quindi un rating in review su itunes sarebbe bellissimo un bellissimo modo per dire grazie se vi piace e per tutto questo podcast che podcast e vodcast che noi creiamo 100% gratuito io voglio concludere così tutti insieme un secondo possiamo chiudere gli occhi non se guidate please ma se non state guidando chiudete gli occhi e dite be the change sì neanche se portate fuori i cani a camminare perché poi l'hai rovinata niente next time next time no 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 it's never too late vai di nuovo diciamo tutti insieme be the change be the change alla prossima ciao ciao